Non vedo l'ora che arrivi l'estate per stare all'aria aperta, mare, costume tutto il giorno. A chi lo dici? Anche se io sul costume ci sto ancora lavorando, sai mi sento gonfia, la sera ho le gambe pesanti e ho pure preso qualche chilo. Beh, allora ti rivelo il mio segreto, io uso Fisiodure Startup. Le tossine sono responsabili di cellulite, gambe affaticate, senso di gonfiore. Mi hanno consigliato Fisiodure, l'integratore alimentare drenante con 12 attivi naturali. Io ho ridotto ritenzione e pesantezza, poi è talmente buono che ho scoperto il gusto della leggerezza. Davvero? E come funziona? Basta diluire un misurino di Fisiodure in un litro d'acqua e berlo durante la giornata. Di solito lascio la bottiglia a casa e nella borsetta tengo sempre uno stick pack. E funziona anche per chi è sempre a dieta? Certo! C'è un Fisiodure speciale per tutti, per chi è sempre a dieta c'è Fisiodure Low Carb. Se vuoi cambiare gusto la freschezza di Fisiodure pesca bianca ti conquisterà. E quando voglia di una tisana io faccio un seratone Fisiodure, coperta, divano e Fisiodure arancia cannella. Con Fisiodure riuscirò a rimettermi in forma. Ehi guarda, sta vivendo Fisiodure Man. Oltre a essere un drenante è anche una formula termogenica per aiutare a ottenere un effetto pancia piatta. E allora sai che cosa ti dico? Che lo consiglio anche a mio marito. E allora vai su Fisiodure.com e capirai perché Fisiodure è il segreto delle star. Trovi Fisiodure nelle migliori farmacie, erboristerie e parafarmacie. Fisiodure, la linea per stare in linea. È un prodotto? Zuccheri! Fisiodure, la linea per stare in linea. Fisiodure, la linea per stare in linea.